Radio Bruno Ciao, sono Radio Bruno in diretta dal villaggio della salute più e oggi incontriamo e conosciamo bene i nostri microfoni anche il professore Antonio Monti e che posso dirla professore? Lei è l'anima di questo villaggio ma anche di tutte le altre strutture che sono davvero tantissime e buon pomeriggio Grazie, ecco ho l'anima però attaccata all'anima c'è anche il corpo e per il corpo ci vogliono tante cose perché rimanghi in salute Allora il villaggio viene sempre esaltato come il posto della natura, della bellezza, dove si sta bene eccetera io vorrei dire che anche il posto dove ci si può curare Nicoletta che ci scrive bellissimo posto anche le terme sono confortevoli e le piscine esterne un divertimento Naturalmente la nostra amica sta parlando del villaggio della salute più che ci ospita in questa domenica e sono proprio con il direttore generale del gruppo Monti Salute Più Graziano Brantoni, Graziano ciao! Ciao a te e buon pomeriggio a tutti i vostri numerosi ascoltatori Noi siamo abituati così, l'accoglienza per noi è un punto fondamentale per fare la differenza per le strutture Noi qui sappiamo accogliere, lo scorso anno abbiamo avuto 200.000 presenze quindi vuol dire che la gente è contenta, ritorna perché si trova in un posto manico Amici di Radio Bruno vi aspettiamo al villaggio della salute più in questo bellissimo posto ogni domenica veniteci a trovare Grazie a tutti i nostri numerosi ascoltatori Radio Bruno Grazie a tutti